Buongiorno a tutti, sono Riccardo Merelli, ho 34 anni, sono il vostro coach e come potete vedere oggi non sono solo, questo perché abbiamo cercato di rispondere nella maniera più competente possibile alla domanda di Lynx.im che vedremo fra un attimo, ma prima di tutto volevo presentarvi il nostro ospite Mario Sossi, ciao Mario. Ciao, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Bene, bene, grazie. Allora, io prima di arrivare alla domanda vorrei un ottimo presentare te tecnicamente, cioè chi è Mario Sossi, com'è arrivato ad essere psicologo e di cosa si occupa in particolare se ti va. Certo, allora io intanto ho 66 anni, sono un dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità e sono arrivato a fare questa professione con una vocazione tardiva, diciamo. Io nella vita ho fatto altre cose, solo di estrazione tecnica, quindi ho sempre fatto il programmatore, il disegnatore, il disegnatore, il progettista per tanti anni nella mia vita. Però fin dalla giovinezza, diciamo dall'età delle superiori, ho sempre avuto la passione della psicologia e della fotografia. Ho coltivato la fotografia fino a un certo periodo della mia vita, ma la psicologia è sempre rimasta come quella a braccia sotto la cenere e quindi è rimasta sempre accesa. Quando a un certo punto i miei quattro figli sono diventati grandi, autonomi e quindi mi hanno concesso un po' più di tempo e di libertà, ho ripreso gli studi, quindi mi sono iscritto a psicologia, ho fatto tutto il percorso, il tirocinio, insomma, e adesso sono qua. Quindi questo mi dà una grande soddisfazione perché faccio quello che davvero mi piace, mi piace portare, divulgare, anche portare soprattutto un piccolo aiuto alle persone. Di cosa mi occupo? Fondamentalmente faccio corsi per la comunicazione, per, diciamo, migliorare la comunicazione tra genitori e figli. Faccio percorsi di gruppo dove si lavora con le emozioni e il mio approccio, quello che mi ha fatto innamorare anche di questa materia, è l'approccio rogersiano. Kurt Rogers è stato uno dei più eminenti psicologi, che è stato anche il fondatore della psicologia, uno tra i fondatori della psicologia umanistica. L'idea di Rogers è che all'interno di ogni persona, dentro ogni persona, ci sono tutte le risorse, le abilità e le possibilità di autorealizzazione. Lui ha fondato una particolare scuola, diciamo corrente di psicoterapia, che si chiama psicoterapia centrata sulla persona, e quindi il focus è sulla persona, è basato sull'ascolto attivo, sull'empatia, sull'accettazione incondizionata. Dopodiché ovviamente la mia formazione è continua. Io ho un amico e collega che mi ha detto moriremo con un libro in mano. Quindi la mia formazione è continua, questa è la mia passione. Devo dire che mi ritrovo molto in questa cosa, pur facendo una professione d'aiuto distinta, perché è stato sempre quello che ho pensato durante la mia umilissima, personalissima formazione. Cioè nel senso che noi magari possiamo avere più mezzi, però molto spesso. Ho pensato che le risposte ai nostri clienti sarebbero da soli. Non sapevo di anticipare un principio rogersiano, mi fa piacere scoprirlo. Magari fuori camera ti chiederò qualcosa in più rispetto ad alcune questioni. Mi sono state poste su cui non ho risposto, magari benissimo, se per te va bene. Certo, se posso, se rientro in quello che sono le mie competenze. Va bene, allora io, Andrea, la domanda. Ho chiesto alla ragazza il nome vero, ma non ha visto il commento. Quindi ti chiameremo Link Shyam, che mi ha chiesto questo di cui avevamo un po' parlato in privato. Però ecco, oggi la ampliamo, cerchiamo di rispondere per quello che è possibile, sperando di non annoiarti. Avrei interesse che trattassi il tema del controllo. Mi spiego. Ci sono persone che soffrono di forme d'ansia, che creano la necessità di controllare tutto. E finiscono per controllare anche il o la partner. Allora, io come coach, forse l'ho detto all'inizio, non ho pensato di avere tutte le competenze per dare una risposta completa a questo tuo dubbio. Ed è da qui che è nata la collaborazione con Mario, quindi lascerei a lui la parola. Sì, allora, intanto è una domanda interessante e importante. Dovremmo avere, non so, un paio di giorni per parlarne, vediamo di concentrare un attimo. Il tema del controllo è un tema diffusissimo. Io quando faccio corsi vedo che è un tema che emerge molto. e in particolare dobbiamo pensare a questo, che una delle grandi fonti di sofferenza psicologica è proprio il tentativo di controllare ciò che non possiamo controllare. Quindi questa lotta che noi ingaggiamo con tutte quelle cose, con quegli aspetti della vita che vorremmo controllare e sono impossibili da controllare, ci procurano davvero una grande sofferenza. Quindi è un tema molto vasto, mi pare che sia collegato anche all'ansia. L'ansia è proprio il tentativo di controllare qualcosa che non si può controllare. Intanto l'ansia è un'emozione, un'emozione un po' particolare. Potremmo chiamarla come una paura senza oggetto. Mentre la paura ha un oggetto ben definito, se io ho paura dei serpenti, l'oggetto è il serpente, quindi se vedo un serpente mi spavento. L'ansia è qualcosa di più nebbioso, di più indefinito. È una preoccupazione che possa succedere qualche cosa, ma non sappiamo di preciso cosa. Io devo fare un esame, non so cosa mi chiederà il professore, non so se mi chiederà proprio quelle due ore, io non ho studiato, non so poi se io mi impappinerò. Sono tutte, non so cosa succederà. E questo genera ovviamente questa attivazione dell'ansia e più cerco di controllare qualcosa che non è nel mio controllo e più questo aumenta. Nel senso che io non saprò che domande esatte mi farai professore. Non saprò davvero in quel momento lì se mi batterà un po' il cuore, se avrò un po' di sudorazione. e quindi questo è un po' il problema che noi tutti ci portiamo dietro, perché ci abbiamo tutti l'ansia. Il problema è quando supera la nostra soglia di tolleranza. Mi pare che una parte della domanda riguardasse un po' il controllo sulle altre persone. se ho capito bene. Beh, io quando arrivano i pazienti, no? che in genere hanno o spesso hanno problemi di relazione, dico loro questa cosa. Devo darti una cattiva notizia. Le altre persone non possiamo controllarle. Quindi non abbiamo nessun potere sull'altra persona. Però abbiamo il potere di influenzarle. Se noi pensiamo che a partire da una coppia e poi a un sistema di tre, quattro, una famiglia, più persone, un gruppo, dobbiamo pensare che è un sistema. E all'interno di un sistema, quando un elemento introduce un cambiamento, questo cambiamento si ripercuote su tutto il sistema. Per cui il sistema coppia, faccio un'ipotesi, se io voglio influenzare il comportamento dell'altra persona, devo cambiare il mio di comportamento. Automaticamente, oddio, aumento le probabilità che se cambio il mio comportamento possa cambiare il comportamento dell'altro. Ma il controllo vero e proprio in genere si ritorcia contro. Oppure sfocia in dinamiche che davvero sono delle terie e pericolose. Non so se ho dato sufficiente questo primo accenno. Io non ho avuto approfondimenti, speriamo di sì. Per come l'ho interpretata io, mi sembrava la risposta. Poi non so, magari ci dirà, speriamo che nei commenti si farà rispondere se si sentirà soddisfatta, diciamo, della risposta. Posso ipotizzare e aggiungere magari un'altra domanda attaccata a questa. Un eventuale consiglio alla ragazza che ascolta, quale potrebbe essere? Sì, intanto bisognerebbe conoscere un po' la situazione di chi ci fa la domanda. Posso dare una così qualche linea guida generale. Quello che noi possiamo fare intanto è abbandonare questa lotta, cercare di abbandonare questa lotta. Come possiamo farlo? Intanto stando a contatto con il presente, cioè con le nostre emozioni, con quello che proviamo, con quello che sentiamo, perché qualsiasi emozione noi proviamo è un indicatore, è una bussola e quindi quando noi proviamo determinate emozioni legate al controllo come può essere la gelosia, può essere anche la rabbia a volte, può essere la delusione, può essere l'aggressività, questo dovrebbe sempre farci interrogare su qual è il bisogno che sta sotto. Intanto riportare l'attenzione, il focus dall'esterno un po' verso l'interno, quindi stare a contatto con quello che sta succedendo dentro di noi. L'altra cosa è tanto pensare che tanto più noi rimaniamo attaccati ai nostri pensieri, alle nostre emozioni, alle nostre sensazioni, tanto più crediamo a questi pensieri, quindi crediamo se io penso che il mio partner, la mia partner flirti con qualcuno e questo pensiero continua e io lo coltivo, finisce che ci credo. se noi riflettiamo un pensiero è un pensiero, a noi interessa poco che il pensiero sia vero o che non sia vero, interessa se funziona per la nostra vita, cioè mi serve o non mi serve per raggiungere le cose che sono importanti per me. se per me è importante la relazione quanto mi serve continuare a rimuginare su questi pensieri? Quindi intanto posso come dire cominciare a riflettere sul fatto che sono pensieri, le azioni sono sensazioni quindi posso anche prenderne un po' alla distanza. Quindi io sono mi sto formando anche in un approccio molto diciamo di terza generazione che è la psicoterapia basata sull'ACT che l'acronimo ACT vuol dire Accettance and Commit and Therapy per vedere terapia dell'accettazione dell'impegno che è una bruttissima è un bruttissimo acronimo vuol dire questo che noi tanto più accettiamo i nostri pensieri i nostri contenuti interiori possiamo concentrarci su che cosa è importante per noi e quindi andare nella direzione di chi e che cosa è importante per noi nonostante gli ostacoli di natura interna che ci si presentano come emozioni difficili rabbia ansia ricordi emozioni quindi questo è un po' diciamo l'approccio che si potrebbe utilizzare ho capito e pensavo di aggiungere una cosa in più che poco a che vedere con l'argomento sempre se c'è il tempo materiale di sviscerarla ecco l'accettazione mi ha fatto pensare a questa specie di come posso dire corrente che si sviluppa soprattutto in ambito social che mi sento di definire come ho letto come positività tossica ossia dire che va tutto bene a tutti i costi e allora mi chiedevo da profano il tuo parere da psicologo rispetto a questa positività tossica qual è? è una domanda interessante va tutto bene a tutti i costi no? in realtà noi sappiamo che se noi pensiamo a cose più importanti della nostra vita come le relazioni l'ambito del lavoro la famiglia noi sicuramente proveremo delle emozioni delle sensazioni molto belle come l'amore la solidarietà l'orgoglio la vicinanza ma proveremo anche tante emozioni come dire spiacevoli proveremo rabbia magari frustrazione anche ansia quindi la vita è fatta esattamente di aspetti diciamo piacevoli e spiacevoli accettare che va tutto bene non si tratta di dire che va tutto bene ma si tratta di dire che ci sono anche cose spiacevoli che la vita è fatta anche di emozioni che tendiamo ad allontanare che istintivamente tendiamo ad allontanare l'accettazione non è una come dire un'accettazione passiva facciamo faccio un esempio io sto camminando per la città e sto andando verso casa a un certo punto viene un'acquazione terribile mi devo riparare sotto una tettoia aspetto che la la tempesta l'acquazione passi ma non passa a casa mi aspettano le persone che mi vogliono bene allora posso scegliere di starmene lì aspettare che passi e magari ci vogliono delle ore oppure di andare e bagnarmi accettare di bagnarmi accettare di arrivare a casa con gli abiti un po' inzuppati ma vado dalle persone che mi stanno aspettando e che mi amano la cosa che noi possiamo tenere presente e cercare di individuare è chi e che cosa è importante per noi quindi quali sono i nostri valori le persone a cui noi vogliamo bene le persone a cui teniamo le relazioni a cui teniamo gli ambiti gli hobby il lavoro le passioni e possiamo fare azioni in direzione di questi valori nonostante gli ostacoli nonostante magari proviamo paura nonostante proviamo della rabbia proviamo dell'ansia proviamo a immaginare se io sono che ne so voglio fare la maratona di New York e se comincio ad allenarmi chiaramente proverò della fatica del sudore proverò dei dolori agli muscoli ma se per me è importante arrivare alla maratona di New York lo farò nonostante la fatica nonostante i dolori ai muscoli dell'allenamento va bene prima di salutarci sperando immaginando di aver fatto click non solo magari il link magari in altre persone che ci ascoltano vorrei chiederti se qualcuno volesse contattarti come professionista come può fare allora sì io ho un sito che è la mia pagina web mariosossi punto it sono presente sui social quindi trovate la mia pagina facebook c'è mariosossi psicologia sia in facebook che in instagram dove ci sono tutti i miei riferimenti dove posto in genere tutte le mie iniziative faccio corsi per genitori c'è un corso che sta partendo che partirà a maggio che è fatto di quattro incontri ma che in genere poi viene prolungato perché i partecipanti vogliono proseguire una volta con un incontro in più si chiama reinventa la tua vita che prende diciamo a prestito il titolo di un libro ma in realtà non è basato su questo libro ma prende in esame alcuni alcuni temi come la trappola dei pensieri gestire il dolore emotivo la trappola del non essere mai abbastanza e il perdono il perdonare se stessi e gli altri quindi sono temi che credo che riguardano un po' tutti in base poi alla propria sensibilità sì infatti è qualcosa che sicuramente andrò a fare anche io una volta chiuso visto che l'ultima volta non ho pensato a chiederti i contatti social quindi approfitterò anch'io Mario io ti ringrazio per il tuo tempo per la tua disponibilità è stato illuminante anche per me e non lo dico solo perché sono a favore di camera tutt'altro ringrazio non so se vuole essere nominato quindi non lo faccio ringrazio la persona che ci ha messo in contatto noi speriamo di avervi intrattenuto e fateci sapere se ci sono altri argomenti che magari sono più adatti a Mario che a me magari ci rivediamo in altre puntate e buon proseguimento a tutti grazie grazie a tutti grazie a te Riccardo ciao buona giornata grazie a tutti